Il criterio non è l'età, hai ragione su questo, il criterio non deve neanche chi non è stato in Parlamento, sono fin qui d'accordo con te, il criterio deve essere, perché ci sono persone anegraficamente giovani come Enrico Letta ma vecchie di testa, quindi non è quello il criterio. E se questo signore ha una mentalità gattopardesca, di umum, di magheggi, abituato a giocare nel pallone del sottobosco romano, oppure se questo è un Presidente che riesce a... Friedman magari gattopardesca, io sto dicendo che va bene che è stato in Parlamento, ma non un gattopardo, uno più moderno, uno più aperto al cambiamento. Di gattopardesco c'è solo il nulla cambia, tutto cambia perché nulla deve cambiare, per il resto di gattopardesco non c'è proprio nulla, perché non c'è novità. Fino adesso siamo andati bene.